chi sono commento tu sei un essere donna e uomo che nel tempo illusorio della mente vive nella condizione umana per trascendersi da sempre sei un alunno del meglio consumando il tuo io che adesso ti affligge comprenderai che non hai un'evoluzione ma sei evoluzione che arriva comunque perché è legge divina allora sentirai che da sempre sei nell'assoluto